Perrino Prego consigliere Perrino Presidente capisco che siamo stanchi e quant'altro Però se qui nessuno ce l'ha la scheda 165 Almeno capire che cosa è stato votato Giusto per E' a sorpresa Chiedo scusa allora Consigliere Perrino io ero convinto che tutti foste in possesso della scheda Io non posso sapere cosa c'è Nei vostri documenti Ora provvediamo Sì La scheda 165 Il comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 98 numero 8 e così sostituito Fermi i limiti fissati dal legislatore statale in materia di spesa del personale E dalle norme di coordinamento della finanza pubblica Nell'ambito del contingentamento numerico fissato dall'articolo 2 per le rispettive segreterie particolari Ed in alternativa alle possibilità offerte dai commi 1 e 2 del presente articolo Il presidente della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale possono richiedere l'assegnazione di personale esterno nei limiti di una sola unità Da reclutare con contratto a tempo determinato Disciplinato da norme di diritto privato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa Il contratto di lavoro è stipulato previa deliberazione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale rispettivamente dal dirigente generale del dipartimento, presidenza della giunta e dal dirigente generale del consiglio regionale Ed è condizionato alla durata effettiva del mandato politico del presidente proponente Ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario nonché di rcesso volontario da parte dell'incaricato Il trattamento economico è determinato dalla categoria del comparto regioni autonomie locali cui l'incaricato potrebbe avere accesso in base al titolo di studio posseduto Al fine di remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli è riconosciuta una maggiorazione fino al valore della retribuzione corrispondente alla massima posizione economica di categoria di riferimento La retribuzione assume carattere omnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento accessorio Prego consigliere Napoli Allora c'è una richiesta particolare Prego consigliere Cifarelli Voglio precisare che io ho presentato l'emendamento Nei termini Nel senso che l'ho presentato prima dell'avvio della discussione in consiglio regionale L'emendamento mirava a omologare diciamo così Il personale a disposizione del presidente della giunta E quello del presidente del consiglio regionale Dal momento che siccome non c'è nessun problema Dal momento che i colleghi non hanno ricevuto l'emendamento A dir il vero non ce l'avevo manco io nelle mie carte Come avete potuto notare Altrimenti sarei intervenuto Io ritiro l'emendamento Allora consigliere Cifarelli Siccome l'emendamento proposto è stato già votato Ma c'è una modalità No c'è una modalità per annullare quella votazione In quanto io me ne dispiace Ovviamente voi immaginate che gli uffici sono sovraccaricati In fase come questo Non c'era nessuna malizia Ma semplicemente è un errore che può capitare Ma io all'inizio della seduta vi avevo detto Che questo genere di problemi possono sorgere Durante una seduta così impegnativa Allora l'articolo 92,5 Ci evidenzia che quando si verificano irregolarità Il presidente valutate le circostanze Può annullare la votazione E disporre che sia immediatamente ripetuta Se lo si ritiene Io intanto annullo proprio Per questa circostanza che mi avete segnalato Cioè la mancanza nei vostri documenti Dell'articolo Intanto annullo la votazione Non ritengo che in questa fase Vada rimesso A meno che A seguito magari Se mi viene richiesta di una riunione Dei capigruppo Non mi poniate una diversa soluzione Altrimenti per me possiamo procedere Prego consigliere Perrino No solo per dire Non ci provate mai più a fare cose del genere No 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 Non ci provate mai più Perché a me che non mi devono arrivare le carte E devo chiedere alle tre di notte Alle tre Non avrò capito niente Ma non ho capito niente Perché non mi è stata data la possibilità Di capire qualcosa Non finisce la storia Caro Cifarelli Non finisce la storia Perché qua le carte devono arrivare Alle tre di notte Con la stanchezza Si pigiano i tasti a caso Si E' questo che qualcuno avrà pensato Allora queste cose qua Non devono più accadere Presidente Altrimenti si monta un casino Che non finisce più Ho capito Allora Sarà pure dell'8 gennaio Del 30 dicembre 2012 Non ho capito Ma non arriva Se non arriva qui E non si legge Evidentemente c'è qualcosa Che non va Che non va Non ci sarà la malizia Da parte mia C'è il retropensiero Purtroppo c'è Ed è confermato Dal fatto che arriva Alle tre di notte Ho capito Ma Si vota alle tre di notte Ecco Si vota Questo emendamento Si vota alle tre di notte Sarà stato consegnato Anche nel 2013 Non mi interessa Quando è stato consegnato Fatto sta Che si vota Alle tre di notte Una cosa del genere Che è inaccettabile Che bisogna Approfondire innanzitutto E bisogna avere modo Di poter visionare Grazie consigliere Perino Prego Aesso A government A A A A A A A Avere cat